Il trattamento Urolift è un trattamento chirurgico ambulatoriale per il trattamento dell'ipertrofia prostatica. L'Urolift, come dice il nome, parla di lift, quindi lifting. Il lifting, quando lo portiamo in chirurgia plastica, significa andare a stendere, a tendere una zona rilassata dall'invecchiamento e dal tempo. Quando parliamo di Urolift, parliamo, come vedrete nel video che qui apparirà accanto a me, che va a stendere, tirare, quelli che sono i lobi prostatici che sono nell'ipertrofia prostatica i colpevoli dell'ostruzione al deflusso dell'urina. L'Urolift è un semplice strumento che, inserito all'interno dell'uretra del paziente, raggiunge i lobi prostatici e applica delle specie di fili, delle clip, che vanno a stendere, a ritirare, a piattire e a ridare quella silhouette alla prostata e quindi all'uretra da cui passa l'urina che c'era prima dello sviluppo dell'ipertrofia prostatica. È un intervento estremamente semplice, scevro da complicanze, se non possibilmente piccoli sanguinamenti. Addirittura nella maggior parte dei pazienti non inseriamo neanche il catetere vescicale, il che lo rende l'unico intervento di questo genere. E ad oggi è l'unico intervento che ha un successful rate, vale a dire un rate di successo per l'eiaculazione anterograda, quindi l'eiaculazione normale, di quasi il 99% sopra. Quindi i pazienti candidabili a Urolift mantengono praticamente tutti l'eiaculazione. È un qualcosa di estremamente interessante in pazienti selezionati che come vedete dal video è semplice, soprattutto in dei hospital e cosa estremamente interessante è che sono candidabili quasi tutti i pazienti con ipertrofie prostatiche moderate e lievi. Anche le ipertrofie prostatiche severe in certe condizioni lo possono essere. Quindi rivolgetevi a urologi che trattano con questa metodica perché il paziente che può accedere a questa metodica con la prostata giusta, i sintomi giusti, le dimensioni giuste ne avrà estremo aggioramento.